Da gennaio ad aprile la ventisettesima edizione della rassegna cinematografica I diritti di tutti per le scuole superiori, intitolata quest'anno Siamo tutti uguali, il valore delle differenze. Due titoli in cartellone proiettati in 16 sale su tutto il Piemonte Vogliamo vivere di Ernst Lubitsch e il fondamentalista riluttante di Miranair. Con I diritti di tutti 2014, due film per ragionare sulla democrazia in chiave moderna. Sì, abbiamo deciso di scegliere un grande classico come Vogliamo vivere di Lubitsch del 42 e invece un film recente come il fondamentalista riluttante di Miranair del 2012 per ragionare appunto sulla storia, un film che racconta il teatro in qualche modo e la possibilità di non stare sotto l'occupazione nazista a livello mentale oltre che fisico e un film che riflette sulla contemporaneità, quindi su altre ipotesi di intolleranza, di difficoltà però chiedendoci di interrogarci su che cosa è evidente e cosa non è evidente proprio rispetto alle guerre di religione, rispetto alle appartenenze culturali e sociali pensando che può essere utile per i ragazzi recuperare la storia ma anche provare a innestare la storia sulla contemporaneità e il cinema su questo aiuta a farlo in maniera coinvolgente, divertente ma per niente banale.